E' un grande piacere anche questa settimana ritrovare nei nostri studi il medico di medicina generale, il dottor Paolo Cascavilla. Ben trovato, buongiorno dottore. Grazie dell'invito. A Diga 33 il medico risponde, lo abbiamo preannunciato la scorsa settimana, parliamo di pressione alta, ipertensione arteriosa, una condizione clinica molto frequente nello studio del medico di medicina generale, il medico di famiglia. Una condizione clinica però, dottor Cascavilla, da tenere d'occhio e da monitorare nel tempo. Perché? La pressione arteriosa è fonte di grande apprezzione per i pazienti. Lo dimostra il fatto che ogni giorno vengono a misurare la pressione frequentemente i pazienti. Perché? Perché l'ipertensione è uno dei maggiori fattori di rischio per malattie cardiovascolari. Se non trattata per lungo tempo, determina, può determinare danni irreversibili ai vasi arteriosi. Se poi si unisce ad altre condizioni, quali il diabete o l'ipercolesterolemia, i danni non sono sommatori, ma esponenziali, hanno in comune lo stesso bersaglio, le nostre arterie, attraverso meccanismi che vanno dalle microlesioni della parete interna delle arterie, che creano le condizioni per la formazione della placca, riduzione del lume, del calibro del vaso e quindi possibili ischemie a livello cardiaco, a livello cerebrale, a livello renale e anche a livello dei vasi retinici. Per questo motivo diagnosticare la pressione arteriosa è importante farlo precocemente. Ecco, sappiamo come si misura la pressione, ma non sappiamo come si diagnostica correttamente. Come si fa a diagnosticarla, a sapere che uno ha la pressione alta? Certo, la prima cosa è affidarsi a un apparecchio affidabile, in quanto il misuratore più affidabile è quello che si pone a livello del braccio. Stringendo il bracciale deve essere ben aderente, due dita circa sopra la piega del gomito e va a misurare la pressione dell'arteria omerale. Invece i misuratori, cosiddetti da polso, sull'arteria radiale sono meno affidabili. Altri errori da non fare, ad esempio, molto spesso i pazienti vengono in studio allarmati perché hanno notato un rialzo pressorio, ma hanno avuto un accesso di rabbia. In quel caso lì, in queste situazioni, siamo tutti per tesi. Allora noi diciamo fai sbollire la rabbia e poi ne riparliamo. La rabbia è una reazione tossica, una dose di veleno che ci autosomministriamo andrebbe sempre evitata, ma questo è un altro discorso. Altri errori da non fare è prendere per buona la prima misurazione della pressione, in quanto il paziente risente un po' dell'emotività di trovarsi in uno studio medico. Certo. Anticipo anche il fatto che nel contesto ospedaliero si possono trovare dei valori anche superiori a quelli misurati nello studio del medico di famiglia. Questo ci dice che in ospedale c'è maggiore tensione da parte del paziente. Quindi misurare più volte, se necessario chiedere al paziente di fare un diario, oppure di effettuare un esame, l'alter pressorio, che può dirimere ogni dubbio. Un altro aspetto che può determinare la pressione alta è l'uso di farmaci, soprattutto quelli antiartrosici o il cortisone. Bisogna tenere presente perché in questi casi la pressione può subire un ulteriore aumento. Quindi questo aumento poi subisce un calo quando si sospendono le terapie. bisogna anche tenere presente delle oscillazioni quotidiane della pressione. La pressione non è sempre stabile. Non bisogna impressionarsi. Se ad esempio facciamo un lavoro impegnativo, è chiaro che la pressione aumenti. Se fosse sempre stabile non saremmo in grado di svolgere lavori che richiedono una prestazione da sforzo. Quindi sono oscillazioni quotidiane che non bisogna prendere sul serio. Quindi la pressione migliore è quella che viene misurata più volte. Il medico deve non fermarsi alla prima misurazione, altrimenti possiamo catalogare un paziente come iperteso quando invece poi in condizioni normali non lo è. Il contesto migliore per la pressione sarebbe l'automonitoraggio domiciliare. Perché qui viene meno anche quell'emotività da camice bianca. L'ansia di trovarsi in uno studio medico. Quindi dottor Cascavilla potrebbe essere utile l'acquisto di questi macchinari automatici, no? Quelli di cui diceva appunto abbraccio e magari tenere un quaderno della pressione. Senza cadere nella morbosità. Eh, non stare lì ogni giorno. Molti poi misurano tante volte. No, non è necessario. Ecco, come il pesarsi ogni giorno. Anche quelli sono comportamenti sbagliati. Lei parlava appunto di farmaci. Esistono di farmaci che fanno aumentare anche un po' la nostra pressione. Esiste sicuramente un ricco bagaglio di farmaci anti-ipertensivi e ad esempio la cosetta pillola per la pressione a volte si sente dire. Ma ci possono essere anche delle abitudini alimentari consigliate che possono aiutare a diminuire la pressione, ad abbassarla? Sì, disponiamo di un ricco bagaglio di farmaci in grado di tenere a bada qualsiasi pressione, di controllare qualsiasi pressione, che fanno parte di varie classi e sarà il medico a scegliere quella classe che è più idonea per quella tipologia di paziente. Però ci possono essere anche abitudini alimentari che possono coadiuvare questo controllo della pressione. Innanzitutto evitare il primo nemico della pressione che è l'eccesso di sale. Ne introduciamo troppo. Non è necessario, anzi è opportuno ridurre drasticamente la restrizione di sale. E il secondo consiglio è legato a questo. Consigliare cibi ricchi di acqua perché, per esempio, molta frutta o alimenti ricchi di acqua, soprattutto certi tipi di frutta, perché hanno lo stesso principio dei diuretici. Cioè, espellono acqua, drenano e in più fanno perdere anche sodio, perché la ritenzione di acqua e sodio è causa di ipertensione. Queste misure, in alcuni pazienti che hanno una pressione labile, una pressione cosiddetta borderline di confine, può addirittura essere anche una misura sufficiente per non ricorrere ai farmaci. Parlo di quelle pressioni che sono di confine. Ecco, dottor Cascavilla, una categoria che deve stare molto attenta alla pressione sono gli anziani, che sono soggetti a variabilità pressoria. Come comportarsi in questi casi? L'anziano è molto soggetto alle variabilità pressorie. Abbiamo parlato di oscillazioni quotidiane, ma c'è anche un'oscillazione mattutina della pressione. Soprattutto negli anziani bisogna stare molto attenti evitando i picchi mattutini di rialzo pressorio, in quanto alcuni ormoni che ci alzano la pressione. Sono mattinieri, si svegliano prima di noi e in questa fascia di orario è rischioso questa fascia di orario perché ci espone, la scienza ormai l'ha evidenziato, a quegli eventi cardiovascolari, compreso l'infarto cardiaco, le sindrome coronariche avvengono nelle prime ore del mattutino, della mattina. Quindi possiamo scongiurare questo pericolo consigliando al paziente, se la pressione non contiene questi rialzi, una pillola antipertensiva da assumere al pomeriggio, in modo tale da coprire tutta la notte e soprattutto il mattino, che è quello dove si hanno questi picchi pressori. Ma esiste anche una oscillazione stagionale, l'estate, in estate le pressioni tendono a diminuire. Perché fa molto caldo. Sì, in questi casi, perché c'è vasodilatazione, in questi casi è opportuno ridurre il dosaggio dei farmaci. In alcuni casi se il paziente prende dosi minime, sempre sotto controllo del medico, di farmaci, si può anche decidere di sospendere completamente e poi rivalutare. Ma un fatto importante da tenere presente negli anziani è anche l'effetto opposto, soprattutto in estate, cioè il calo pressorio. La pressione può scendere oltre certi livelli critici. E questo può essere pericoloso nell'anziano. Perché? Perché l'anziano ormai ha dei vasi rigidi, quindi viene meno la spinta elastica delle arterie che fornisce il circolo sanguigno e quindi di nutrimento e ossigeno i nostri organi. In questi casi un anziano, non avendo più questa spinta per la rigidità dei vasi, il calo pressorio può esporre a sindrome vertiginose, cadute, veri e propri sintomi segni ischemici. Dunque è opportuno non scendere oltre certi livelli. Per concludere bisogna dire che contenere la pressione arteriosa entro certi limiti normali significa far lavorare il nostro cuore nelle condizioni ideali. Perché un'ipertensione col tempo crea logorio e ingrossamento del cuore. Al contrario, mantenendo avendo cura della nostra pressione entro limiti normali, consentiamo a questa pompa cardiaca che è senza riposo, di durare nel tempo, di mantenere la funzionalità nel tempo e quindi garantirci attraverso la salute del cuore, garantirci anche una longevità, la salute del nostro benessere. Preziosissimi i suoi consigli anche oggi, dottor Cascavilla. Questa puntata e le altre di Dica 33 le potete rivedere e riascoltare sul nostro canale YouTube di Padre Pio TV. Appuntamento a lunedì prossimo, dottor Cascavilla, per l'ultima puntata di questo ciclo. Grazie ancora per essere stato con noi. Intanto linea alla regia perché proseguiamo come sempre il nostro appuntamento quotidiano. a lunedì prossimo, dottor Cascavilla, per l'ultima puntata di questo ciclo. Grazie a tutti i nostri